Colfe Badanti è tornata la vostra rubrica rispondo alle vostre domande perché per me secondo me svolgete uno dei lavori più importanti che c'è in Italia ovvero state vicino alle persone che noi vogliamo bene quindi un abbraccio a tutte le colfe le badanti seguitemi se non fai il modello 730 e se dovessi essere a debito che cosa capita che l'agenzia delle entrate prenderà per buono comunque il pre compilato che ti andrà a predisporre anche se tu non lo e quindi sostanzialmente se tu dovessi essere a debito arriverà l'agenzia delle entrate e farà devi pagarmi questo e se non paghi bloccano conti correnti, autovetture piuttosto che anche lo stipendio quindi sostanzialmente si sbaglia a non presentare il modello 730. Presentando il modello 730 se viene predisposto correttamente, attenzione questo è un passaggio importante, tu potrai andare a inserire anche tutte le tue detrazioni, i familiari a carico anche non conviventi, andare a usufruire di quello che è il TIR, trattamento integrativo sul reddito che sono i 1200 euro e quindi di conseguenza andare a credito oppure pagare decisamente meno di quello che andresti a pagare se tu il modello 730 non lo presenterai. Seguimi, ciao!